E' il signor Luigi è un artigiano che praticamente è quasi nato su una bicicletta. Esatto. Lei è un artigiano, un artigiano... Figlio di artigiani. ...della bicicletta. Voi fate biciclette un po' per tutti. Anche per il Giro d'Italia avete fatto qualche cosa? Molto abbiamo fatto per il Giro d'Italia, per vari professionisti che hanno vinto anche delle gare importanti. Quindi lei che fa? Lei crea proprio una bici personalizzata? Noi facciamo le bici proprio su misura. Abbiamo un programma computerizzato con un sistema di misure degli arti e si crea una posizione ad hoc per chi fa ciclismo agonistico, per chi fa discesa, per chi fa mountain bike.